Nella manovra 2019 il debito pubblico cresce, ma alla sanità non spettano nemmeno le briciole. Unica ragionevole certezza è che il miliardo aggiuntivo stanziato dal precedente esecutivo rimarrà indenne, con un finanziamento pubblico per il 2019 di 114,396 miliardi di euro. È la denuncia della Fondazione Gimbe che ha condotto un'analisi della nota di aggiornamento al DEF 2018, da cui emergono tutte le contraddizioni di una manovra che porta alle stelle il debito sacrificando le tutele pubbliche. La sanità continua a rimanere fuori dall'agenda politica e, nonostante le dichiarazioni di intenti del contratto di governo, elenca nessun rilancio del finanziamento pubblico, pochi interventi realmente innovativi e dubbi sulle reali coperture. Non solo, cala il silenzio su rinnovi contrattuali, sblocco dei nuovi LEA ed eliminazione del super ticket. Tenendo conto poi dell'enorme indebitamento, dell'incertezza sulle coperture e della prima bocciatura da parte dell'Unione Europea, è evidente che per la sanità, nella prima legge di bilancio giallo-verde, il triennio 2019-2021 è buio pesto, proseguono gli esperti.